ciao e ben ritrovato oggi voglio farti conoscere e comunque insegnarti spiegarti il groove di un grande brano degli U2 Larry Mullen Jr. alla batteria con Sunday Brothers Sunday qui sotto sempre il pdf da scaricare per seguire appunto le parti che ti spiegherò introduzione che vede la nostra cassa in quattro che comunque di per sé vale e è presente in tutta la canzone mani che lavorano in sedicesimi quindi a colpi alternati che si divideranno tra rullante e charleston andiamo a vedere l'introduzione una prima misura in cui vediamo poi l'ingresso sugli ultimi due sedicesimi della batteria con due colpi di rullante che poi proseguiranno sulla prima misura appunto prima misura che vede sul primo quarto due sedicesimi sul rullante due sedicesimi sul charleston secondo quarto rullante sul primo sedicesimo e altri tre sedicesimi sul charleston tutti e quattro sedicesimi sul tre suonati sul charleston e sul quattro i primi due sedicesimi sul charleston e gli ultimi due sul rullante proseguiamo con la seconda misura quindi il primo finale di introduzione che vede appunto sull'uno tutti e quattro i sedicesimi suonati sul charleston sul 2 i primi 2 sul charleston e gli altri 2 sul rullante, ripetiamo sul 3 4 sul charleston e sul 4 2 sul charleston e 2 sul rullante. Stessa cosa avviene sul secondo finale in cui però sul 4 vediamo solo un colpo di rullante sul terzo sedicesimo e sul quarto riportiamo ancora il charleston. Prima strofa anche qui sempre cassa in 4 e le mani che lavorano i sedicesimi. Prima misura che vede sull'1 sul 2 sul 3 invariato i sedicesimi suonati tutti sul charleston mentre sul 4 troviamo un sedicesimo di rullante in questo caso il terzo quindi il secondo ottavo sarebbe suonato sul rullante. Seconda misura invariata solo che troviamo sul 4 ultimi due sedicesimi suonati sul rullante. Queste due misure si ripetono per un'altra volta. Seconda parte della strofa. Prima misura sul primo quarto troviamo i primi due sedicesimi sul rullante e gli altri due sul charleston. Sul 2 primo sedicesimo sul rullante e gli altri tre sul charleston. Sul 3 tutto sul charleston mentre sul 4 primo terzo e quarto sul rullante. Questa figura la troviamo anche sul secondo e l'ultimo quarto della misura successiva. Terza misura che vede solo sul 4 un sedicesimo quindi il terzo sedicesimo suonato sul rullante e quarta misura che vede solo gli ultimi due sedicesimi del 4 suonati sul rullante. Ritornello che vede prima misura il rullante sul primo sedicesimo del secondo e l'ultimo quarto. seconda misura che sul 2 vede primo terzo e quarto sedicesimo sul rullante e sul 4 gli ultimi due sedicesimi sempre sul rullante. Queste due misure si ripetono. Queste le parti principali sono bene o male sempre queste che si ripetono. non vi resta che scaricarvi una base se la trovate oppure il brano anche con sotto la batteria imparatela, suonatela e divertitevi. Ci vediamo presto per un altro groove fantastico. Ciao, buon groove e buon divertimento. Alla prossima!